È stato approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto legge che stabilisce le disposizioni che entreranno in vigore dopo l'ultimo giorno di zona rossa nazionale, ovvero quello dell'Epifania. Dal 7 al 15 gennaio rimarrà sempre valido, a prescindere dal colore della regione, il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra regioni o province autonome, eccezione fatta per gli spostamenti comprovati da esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Sarà invece consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, mentre non sarà possibile recarsi presso le seconde case situate in altre regioni o province autonome. Sempre attivo anche il coprifuoco nella tradizionale fascia oraria che va dalle 22 fino alle 5 del mattino. Terminato il periodo festivo con le limitazioni della zona rossa nazionale, il 7 e l'8 gennaio sarà reintrodotta la zona gialla. Rimangono attivi i divieti di spostamento presenti su tutto il territorio nazionale fino alla metà del mese, ma in queste due giornate i negozi potranno alzare la sala cinesca e anche i ristoranti potranno rimanere aperti al pubblico fino alle ore 18 e con i servizi di asporto e consegne a domicilio. I pranzi al ristorante però saranno consentiti soltanto per due giornate, perché nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 gennaio anche le marche torneranno in zona arancione, con le regole già note che la fascia di colore comporta. Nel weekend a rimanere chiusi saranno quindi anche i centri commerciali, ad eccezione dei servizi considerati essenziali. Ancora aperti invece i negozi e altre attività, tra cui parrucchieri e centri estetici. Ad aggiungersi ai divieti di spostamento nel weekend tornerà anche quello tra i comuni, eccezione fatta per i centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, dai quali ci si potrà spostare per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione in ogni caso di movimenti verso i capoluoghi di provincia. Dall'11 gennaio scatteranno invece le misure relative alle nuove fasce di rischio per le regioni, che saranno decise in base al monitoraggio sull'indice RT previsto per venerdì 8 gennaio. Bisognerà attendere quindi il weekend per capire il colore che verrà assegnato alle marche e le regole che i cittadini dovranno rispettare a partire dall'inizio della prossima settimana. Fino al 15 gennaio sarà ancora possibile anche per i residenti delle regioni inserite in zona rossa recarsi a casa di parenti o amici una sola volta al giorno e in un massimo di due persone, che potranno però essere accompagnate senza essere inclusi nel conteggio, da figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti con cui condividono la residenza.